Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Nemmeno il tempo di aprire il gioco e cominciare a registrare che mi arriva subito qualcosa in game Anche se poco spero che apprezzi, grazie ancora per la calciatrice Thank you brother, grazie mille Ciro Io sono un tipo che preferisce fare i regali anziché riceverli, davvero E non va bene quando spendete del denaro per poi inviare delle cose a me Quindi, andiamo ad aprire subito questo regalo, ringraziamo ancora il ragazzo, grazie mille Ciro Un bacione, vediamo un po' La nuova wrap, Sprinkle Ma è fighissima sta wrap, l'altro giorno l'ho fatta vedere in live e ho detto che era bellissima Ma grazie mille fra, grazie 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 Ce la mettiamo subito questa qui Quindi... Oh, aspettiamo un attimo, aspettate What? Ma cosa c'entra ora? Andiamo nel negozio oggetti, oddio santo, il cornetto Come avevamo già annunciato nel video di ieri, i calciatori, anche se segnavano 24 ore, sarebbero rimasti per 48 ore Ormai la Epic la conosciamo benissimo O meglio, conosciamo ormai come funziona un po' questo shop Dovrebbe essere una sorta di bug, oppure non so se lo vadano a fare apposta Quindi abbiamo tutto il set del cornetto che abbiamo visto qualche giorno fa in live Che dopo la skin stessa ovviamente comprende un piccone e un deltaplano Andiamo a vedere subito cornetto che si presenta come una di quelle skin abbastanza simpatiche Stile pesce secco ragazzi Sinceramente non so se andarla ad acquistare Fatemi sapere ovviamente come sempre qua sotto tra i commenti che cosa andrete a fare voi Se vi piace o non vi piace questa skin Andiamo a vedere quello che è il piccone Quanto è bello l'effetto gelido ragazzi Quanto? Andiamo ad ascoltare subito il suo suono Diciamo che a livello di suoni la Epic non sbaglia quasi mai Bene, bene, bene Controlliamo anche quello che è il deltaplano Vediamo un po' Non poteva analzarlo un pochettino sta musichetta? Ok, i deltaplani così mi piacciono parecchio Quando c'è una musichetta che si va a prolungare per il resto di tutta la planata Mi piace Sempre come lo stile del deltaplano del pesce secco Il Coral Cruiser Fantastico Alla destra ragazzi poi abbiamo un balletto da 800 che è davvero la fine del mondo A mio parere è una delle migliori mod da 800 V-Buck Uscì per la prima volta due settimane fa Mi sembra il giorno prima dell'evento di Marshmallow Infatti In quell'evento stetti solamente con questi mod E' fantastica ragazzi, è fantastica Il beat pure, è pazzesco Meraviglioso Va bene, i calciatori li abbiamo visti già ieri ragazzi Ve li ho mostrati uno per uno Abbiamo fatto anche qualche regalo Poi abbiamo Canaglia Una skin da 1500 V-Bucks Eccovela qui So che in molti ogni tanto aspettano questa skin I nostri ladri che fanno parte del set carcerato Non sono male, sono delle belle skin Sia quella maschile che quella femminile Molto belle Poi abbiamo fortuna che è un piccone che ultimamente sta uscendo parecchie volte Allora Sound non uguale ma di più a quello che è il piccone base Ma questo lo dico ogni volta che esce questo piccone Perché magari qualcuno non ha visto i miei primi video su questo piccone Poi abbiamo un'altra skin da 1500 V-Bucks Ecco qui di fronte a noi, operazione segreta Una skin Ragazzi Non commento nemmeno Che cosa vi devo dire su questa skin? È meravigliosa È una skin da panico Cioè quando la beccata in game Fa davvero la sua figura Alla destra abbiamo Rimbalzi Un'emoto da 500 V-Bucks Che si va ad associare a quelle che sono le skin ovviamente dei calciatori Poi con la nostra skin del prigioniero fase 4 Attenzione che si brucia la palla fratello È bello che sia molto, molto bello Per finire abbiamo la sprinkle wrap La nostra wrap da 300 V-Bucks Che mi è stata regalata in inizio video Andiamo a vedere subito come si porta un po' su quelle che sono le armi e i veicoli Mettiamola su tutto quanto dai No, mi piace, mi piace, mi piace Mi piace Oddio Ok, il pompa del nonno ragazzi Con questa nuova wrap è fantastico Niente da dire Lo sniper come sarà? Questa celestina è fantastico, ci sta Non è una di quelle super wrap però ragazzi È abbastanza simpatica Perché poi alla fine si va ad affiancare A quello che è il nostro cornetto La skin di oggi da 1500 V-Bucks Rieccovela qui Quindi ragazzi lo shop di oggi era questo qui Fatemi sapere qua sotto tra i commenti se vi è piaciuto Se acquisterete qualcosina E che cosa sceglierete tra tutti questi item Io vi ringrazio ancora per avermi supportato Nell'evento del supporto a un creatore Vi ricordo che potete farlo cliccando qui in basso a destra E digitare al centro dello schermo in questa stringa J-K-R-MARTEX Così In maiuscolo o in minuscolo è sempre uguale Cliccare su accetta per confermare Fatto così mi avrete supportato gratuitamente nello shop Grazie a tutti coloro che lo faranno Prima di concludere il video sapete che video che vado a regalare a qualcuno di voi Questa wrap Allora il primo lo inviamo Vediamo un po' Sperando che non ce l'abbia già Ok Ok Vico il terzo regalo del giorno Abbiamo fatto dei regali che Diciamo giusto il pensierino ragazzi Più che regalo è qualcosa così Io davvero non so se acquistare questa skin Perché non è il mio genere di skin davvero ragazzi Facciamo una cosa ragazzi Se questo video supera i 4000 like Questa sera l'andremo a shoppare in live Fatemi vedere tutto il supporto che sapete darmi tramite questi video Noi ci becchiamo in un prossimo video Un salutone da Martex Ciao brothers